Ok, vai avanti, rimani più o meno qui in quella zona, ok, ci siamo, start, ok, non dobbiamo Siamo in un'altra mia stropa, che ci è in varia, su un'ordine di femeie, si faci un pozie, basta, fino a che deve fare, fai far si volare, inti, 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 inti. a lì come si usava io a così non viene altro tu proprio a gatti devi arrivare devi arrivare a 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